Il progetto che vi presentiamo tratta la determinazione sperimentale delle caratteristiche della confusione di una lamina unidirezionale di materiale proposito, in particolare utilizzando il metodo indiretto in particolare io partiro con una veloce traduzione teologica e poi ci ho posto a Maria Pia per la parola del vento. Il lavoro nasce da una collaborazione tra le mie referenze, la studia di Viattro Rosso e l'Università di Colonia con lo scopo di individuare le caratteristiche della compressione di una lamina unidirezionale e validare il metodo indiretto del beta-offerto. Durante le prove a compressione di materiali compositi si incontrano molte difficoltà, infatti. In particolare, citando brevemente, abbiamo il problema dell'amminamento del carico, la limitazione del vatico del campione durante la prova, l'umiformità dello stato tensionale all'interno del campione, l'accettabilità dei bordi di rottura e la possibilità di avere dispersione contenute e obiettività dei risultati. In particolare, però, ancora più problematico, in particolare per il test dei due indirizionali, è il fenomeno del micro-buckling degli sticoli fili che avviene appunto testato. Trattando brevemente le metodologie di carico-compressione dei materiali compositi, specificandoli per metodologia di carico, abbiamo innanzitutto i metodi che applicano in carico al campione mediante taglio. In questo caso abbiamo il problema, può esserci il problema della sostituzione delle pressioni all'estremità del campione, dove c'è la strada dell'attrezzatura. Abbiamo le attrezzature principali, abbiamo il metro dell'attrezzatura gelanise, in questo caso abbiamo la problematica dell'attrezzione del campione indotta dalle superfici delle spese aponiche dell'attrezzatura, e abbiamo la seconda, è la strada IP, la quale presenta delle dimensioni notevoli e anche un peso molto alto. Una seconda metodologia di carico del campione è quella all'estremità, in questo caso abbiamo un rischio di correre lo schiacciamento e l'attrezzazione dell'estremità del campione, abbiamo l'attrezzatura di seno 5 modificata che rientra questa categoria. Questa attrezzatura però presenta una lunezza di gauge molto ridotta e quindi si ha difficoltà nell'installare i dispositivi. L'ultimo caso invece è la metodologia che utilizza i campioni dei pannelli sandwich, quindi abbiamo i due laminati di cui sono troie caratteristiche e interposti da un corno. La procedura delle infotitazione dei campioni è sicuramente più complicata, ma in particolar modo si ottengono dei valori di resistenza e infotitazione generalmente più alti, poiché il corno stabilizza le fibre del manito. La metodologia che abbiamo scelto di utilizzare dopo le varie ricerche fotografiche è una metodologia combinata, appunto, che combina i due di compression con l'attrezzatura CLC, che combina le tue modalità di applicazione del caldo al campione all'estremità e a tante. In particolare i principali vantaggi che questa attrezzatura ha sono la leggeresse e le condizioni contenute, la procedura di produzione dei campioni che è molto semplificata perché non vengono chiesti i TAPS sul campione e la distorsione dei risultati contenuta, quindi i coincidenti di riparazione che si ottengono per i risultati delle prove sono molto semplificati. Questa è l'attrezzatura, possiamo individuare i quattro blocchi principali del corpo, i due blocchi principali che servono ad allineare i blocchi superiori e quelli inferiori anche per aiutare bene le dislessioni del campione e, in particolare, nei due blocchi separati che avrebbero l'impatto superiore, abbiamo le cucinette di ciclo di stile. E poi possiamo vedere nelle due regioni interne delle superfici adatto a coefficiente di attrito per l'aggrappato per l'aggrappato. Rimane però, se ricordiamo le problematiche che avevamo contatto nella prima slide, rimane il problema del micro-brackling, del fibre e del laminato iniezionale. Come si fa a superare questo problema? Si ha scelto di utilizzare una metodologia di account factor. Questa metodologia è una metodologia indiretta per ricavare la resistenza di pressione del laminato iniezionale a partire dalla resistenza con pressione di laminato genetico testato. Può essere endorplari o crossplari. E quindi è possibile che è stato sperimentalmente. Vediamo il backup factor, un parametro che si ricama tramite la teoria classica del laminato iniezionale. Vediamo infatti dalla formula che due sigma, sigma, x-max interlogari per laminato iniezionale e dall'altra parte abbiamo il carico visolare, quindi abbiamo la sigma, la tensione di rottura del laminato genetico testato. Le ipotesi che hanno permesso di ritrovare un'espressione semplice del backup factor sono proprietà e rassicoli lineari del materiale, laminato di piccolo medio spessore con basso curvatore e basso concentrazione di sforzo da trasversare, le quali permettono di considerare lo stato di sollecitazione piano, ed inoltre laminato simmetrici, liberati e bilanciati che sono oggetto della nostra specificazione e abbiamo considerato la riformazione del piano medio del laminato coincidente con la riformazione del simbolo. L'espressione generale che è ricavata per il backup factor è la prima assurda. In particolare per un laminato cross-clari, che sono i laminati che siamo andati a testare nel nostro caso di simbolo, ovvero laminati costituiti da dammi a 0 gradi e a 90 gradi, l'espressione più particolare, specifica del backup factor che abbiamo ottenuto è quella simbolo, nella quale possiamo trovare il pulsero, che è la stazione volumetica delle laminati a 0 gradi all'interno del laminato esnerico, e y, che sono i moduli elastici longitudinari o adversari della lamina o del laminato a 0 gradi, e n, x, y è il coefficiente di cosone sempre laminato o laminato a 0 gradi. Per quanto riguarda la parte sperimentale di questo lavoro, sono stati realizzati quattro laminati di materiale composito, andando ad impilare delle lamine bidirezionali di materiale più impregnato, in modo da ottenere nei primi tre laminati dei materiali cross-fly, quindi con la differenza tra i due è solo la percentuale di fibre risposte a 0 gradi, mentre negli ultimi due materiali sono stati impilati i vari prepregni in modo da ottenere punti direzionali solo con fibre a 0 gradi o solo con fibre a 90 gradi. Da questi quattro laminati sono stati ricavati a 12 provini ciascuno, di cui i più 12 provini sono stati testati per quanto riguarda i materiali cross-fly per individuare la resistenza a compressione del materiale cross-fly, che sarà poi necessaria per ricavare la resistenza a compressione della lamina bidirezionali. Mentre sei prove sono state effettuati a punti direzionali per andare a ricavare quelli che sono i moduli elastici in direzione di applicazione del carico, in direzione trasversale e per quanto riguarda l'armando rimossonico. Di queste prove sono stati scomentati 5 provini per ogni serie, di cui 3 provini con rosetta bidirezionale e stensimetro longitudinale in configurazione back-to-back e le altre due con due stensimetri longitudinari anch'essi in configurazione back-to-back. Possiamo qui notare quelli che sono i risultati sperimentali per quanto riguarda il materiale cross-fly, in cui possiamo in particolare notare il fatto che il materiale che ha una maggiore percentuale di fibre risposte a 0 gradi ha una resistenza a compressione superiore rispetto all'altro. Mentre qui sono riportati quelli che sono i risultati sperimentali per i materiali bidirezionali, in particolare i materiali che sono fibre risposte a 0 gradi per il materiale E e fibre risposte a 90 gradi per i materiali F. Vengono qui riportati due grafici tipici che abbiamo ottenuto durante le prove sperimentali. In alto possiamo vedere un dato di potenzione e deformazioni in cui sono tenuti a confronto i dati relativi agli stensimetri longitudinali delle prefacce di uno stesso provino, mentre in basso vediamo l'algamento tipico del bending, cioè della flessione di questo provino, che è un fattore estremamente importante per capire se possiamo ritenere la prova di compressione valida, cioè abbiamo evitato quello che è il rischio di backing del provino, oppure è una prova di scattare. Possiamo qui notare invece due delle rotture tipiche dei promini. Per quanto riguarda i materiali crossfly, in alto abbiamo la rottura più tipica che è stata riscontrata che viene denominata nell'STM di riferimento come rottura fluid, mentre in basso è presente la tipica rottura per i materiali bidirezionali a 0 gradi in cui in particolare si può notare il micro-bucking delle fine. Qui sono importati i dati di resistenza a compressione dei materiali bidirezionali che sono stati ricavati appena verso la resistenza a compressione dei materiali crossfly, moltiplicati per quelli che sono ben affatto accalcolati. Possiamo notare che per che ha fatto con i materiali b, cioè con i materiali che hanno un percentuale di ridurre a 0 gradi maggiore rispetto all'altro che ha fatto sia in periodo. Da un attento confronto di quelli che sono i dati che abbiamo ricavato specialimentalmente e su quelli che sono i dati forniti dal produttore del materiale a cui impegniamo e con cui sono stati ricavati tutti i provini, possiamo vedere che i dati che abbiamo ricavato sono dello stesso ordine di grandezza e quindi sono coerenti con i dati ufficiali formiti e questo fattore che è un fattore estremamente importante unitamente al fatto che abbiamo trovato uno scatter dei risultati sperimentali molto basso ci ha portato ad affermare, a validare questo metodo indiretto del carbone che ha fatto unitamente all'utilizzo dell'attrezzatura CNC. Quelli che sono i sviluppi futuri sono i seguenti, è già in corso di applicazione della questa metodologia indiretta su dei provini angle play, cioè dei provini in cui le fibre non sono risposte solo a 0 e 90 ma hanno anche dei danni differenti e successivamente si provvederà anche all'applicazione e alla validazione di questo metodo attraverso una simulazione dei elementi fluidi, quindi un calcolo tempo. Grazie. 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 Grazie.